Le recensioni cinematografiche del Gansino Che film c'è oggi al cinema? Padre Pio che potete vedere a 3 euro e 50 per Cinema Revolution Di genere drammatico storico a sfondo politico e religioso Dura circa 1 ora e 42 minuti Proiezione in formato panoramico E la multisala Isola Verde Tibisa lo ha interamente proiettato senza interruzione Una visione più sul contesto storico dell'Italia prefascista Del Santo da Pietralcina San Giovanni Rotondo 1920 Padre Pio si ritira in convento Confrontandosi con incubi e visioni In paese i soldati tornano dalla prima guerra mondiale Con le prime elezioni libere il partito socialista Cerca di convincere a votare per loro Ma i rappresentanti del potere e della chiesa Rispondono con aggressioni e minacce Cosa c'è di bello e meno bello? Film di Abel Ferrara in concorso al Festival di Tormina 2024 Che alterna la figura di Padre Pio al contesto storico Da un lato il Santo si fa carico della sofferenza e della propria vocazione Dall'altro quello dei contadini nel combattere le ingiustizie Il film è una parabola laica di idee e azioni fino alle loro estreme conseguenze La maggior parte del film si concentra sugli ultimi del mondo Quelli uccisi dalla fatica, dal lavoro, trattati come bestie E abbandonati al loro destino da tutte le istituzioni Chiesa in premis Dall'altro non mancano i miracoli Quei pochi che si vedono nel film E la sofferenza di Padre Pio per la gente che si vede poco E con essa più rappresentando lo spirito della chiesa Bella e allegorica la scena delle stigmate Anche se il film resta appiccicato a quel mondo rorale e analfabeta Quindi in conclusione si può andare a vedere? Tutto sommato un film ottimo che si può vedere Ma non aspettatevi il classico film sul Santo